Bella bionda, parlo gutte La Fenice Eventi e Concerti presenta Daniele De Martino in concerto Daniele De Martino in concerto Venerdì 16 novembre al Living di Giuliano in Campania Via Rituaria 257 Tutta, ma proprio tutta, la musica di Daniele De Martino in una sola serata Vietato mancare Odio chi mi ha fatto innamorare Venerdì 16 novembre al Living di Giuliano in Campania Vuoi conoscere Daniele? Prenota il tuo esclusivo posto al backstage Chiama ora al 392 3524 697 Dopo il concerto, serata disco reggaeton e musica commerciale con il DJ Skattox Daniele De Martino in concerto Tutta la sua musica in una sola serata Prende un solo barabà Prende un solo barabà